Progressi nelle campo del contrasto alla miopia infantile. A riferirlo sono i dati che emergono in merito alle lenti con tecnologia DIMS a seguito dei quasi 4 anni di analisi dalla loro produzione ad oggi. Assolutamente un'ottima efficacia di questa lente. I dati iniziali erano del 58-59% di successo, oggi siamo a oltre il 60% di successo dimostrato. Inoltre a questo posso dire che nel mio piccolo inteso ottica DR i dati sono ancora superiori perché su oltre 100 bambini trattati, a parte pochi casi di bambini che non hanno ottenuto un gran risultato, tutti gli altri hanno avuto o un rallentamento o addirittura una miopia che si è stabilizzata. Cosa positiva che i dati nazionali oggi aggiornati a pochi mesi fa parlano di oltre il 60% di successo, quindi assolutamente oggi possiamo confermare che questa lente, e parliamo della lente con tecnologia DIMS uscita sul mercato fine 2020, inizio 2021, sta dando i risultati sperati insomma. Un progresso che dunque consente un'evoluzione positiva nelle campo scientifico delle contraste alla miopia, impedendo a quest'ultima di crescere e svilupparsi rapidamente in maniera eccessiva. Riesce e può riuscire a rallentare o comunque a diminuire il peggioramento miopico, l'obiettivo è ovvio che sarebbe quello di fermarla ma non sempre questo è possibile. Sul lungo periodo riuscire a rallentare, faccio un esempio a caso, se abitualmente un ragazzino che va tra gli 8 e i 16 anni può avere anche una diottrina, una diottrina 50 di peggioramento all'anno, quello che è l'obiettivo di questa lente è di ridurre questo peggioramento. Riuscire ad avere peggioramenti anche nell'ordine dello 0,25 e 0,50 anziché della diottria diottria 50 è già un ottimo risultato oggi. Per comprendere al meglio il problema dell'amiopia infantile ci viene mostrato un esempio pratico. Un bambino con una miopia anche di meno 2 potrebbe avere questo tipo di visione, quindi come vedete l'immagine si sfoca completamente andando a perdere anche i dettagli soprattutto sui decimi maggiori come possono essere gli 8, 9 o 10 decimi. Chiariti quindi i dati delle progresse ed osservato il fenomeno comprendiamo lo scopo che vuole avere questo tipo di tecnologia. L'obiettivo è rallentare e ridurre l'amiopia sostanzialmente non solo per un aspetto estetico dell'occhiale ma soprattutto per prevenire patologie oculari quando i bambini saranno adulti perché con un'amiopia elevata si può essere più soggetti a patologie importanti. Ecco perché l'obiettivo oggi è rallentare e laddove è possibile fermare lo sviluppo dell'amiopia nei bambini.